Ma buongiorno! Bonjour! Bonjour! Dove siamo oggi? Sul treno, siamo su Tello che ci porterà in Costa Azzurra per il... Carnevale! Ciao, regia! Ok, direi che siamo pronti per il Carnevale di Nizza! Miau! E io sono Goku! Ma cosa fai i triangoli? Non lo so se si... Devi fare onda... No, così... Sembri altri, fare onda e energia, dai! Ma giusto, è vero! Ah, non puoi, c'è la telecamera in mano! Vabbè, comunque quella cosa lì! No, non puoi, c'è la telecamera in mano! Ed eccoci di nuovo in Place Masséinat per la seconda parte del Carnevale di Nizza! Come si sente dalle urla, siamo pronti per la battaglia dei fiori! Decoppa Florin! Grazie a tutti. Grazie a tutti.